Come potete notare sulla vostra sinistra, ma biciclette parcheggiate. Qui è il regno delle biciclette, biciclette ovunque, biciclette che vanno, biciclette che vengono, biciclette che salgono e scendono, biciclette che corrono, si fermano, stoppano, gridano, urlano, biciclette che ci rincorrono indietro, biciclette che saltano, biciclette che gridano ancora e gridano alla luce di questa città. Biciclette è la città delle biciclette, è qui una bicicletta parcheggiata, sola, abbandonata a se stessa, con le ragnatele che la portano. Chi la libererà? Che cosa succederà di lei? Noi ce lo domandiamo, perché noi ci domandiamo delle biciclette, noi ci teniamo cura delle biciclette, perché le biciclette sono un bene della società. E quindi, in questa città, dove le biciclette sono padrone della città, io vi saluto e vi richiamo a questo fantastico fiume dove galleggiano migliaia di biciclette morte, abbandonate, per sempre.